Un'altra mattinata dedicata all'ascolto dei testimoni, quella odierna, la terza delle cinque udienze programmate presso la Corte d'Assise di Sondrio per il caso che vede sul banco degli imputati un 48enne originario di Teglio. L'accusa è quella di strage per aver appiccato le fiamme nell'aprile dello scorso anno alla porta d'ingresso dell'abitazione nella quale a poggi ridenti risiedono Maurizio e Michael Mottolini, padre e figlio, con la finalità di creare un rogo che avrebbe potuto provocare l'esplosione dello stabile se si fosse propagato al contatore esterno del gas. Il 48enne attualmente detenuto presso la casa circondariale di Sondrio, oggi di fronte al giudice Carlo Cannasio. Il movente, secondo l'accusa, sarebbe da ricondurre ai presunti abusi che, da quanto raccontato dall'imputato, sarebbero stati perpetrati precedentemente dal figlio del proprietario dell'abitazione nei confronti della compagna dell'accusato. Da lì la scelta di vendicarsi. Da quanto appurato finora, lo stesso 48enne si sarebbe recato alcuni giorni prima del fatto presso l'abitazione dove padre e figlio risiedono per poter chiarire alla presenza della propria compagna quanto in precedenza fosse accaduto. Da quanto raccolto finora non vi sarebbero testimonianze certe sull'identità di chi avrebbe appiccato il fuoco all'ingresso dell'abitazione, allontanandosene immediatamente dopo in sella ad uno scooter. Da appurare anche il ruolo di presunta complice della compagna dell'imputato, che verrà giudicata con rito abbreviato. Quest'oggi in aula ascoltati i militari appartenenti al nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Sondrio, assieme ad un rappresentante dei vigili del fuoco, tutti intervenuti sul luogo dell'accaduto. In questa udienza abbiamo sentito le forze dell'ordine che sono intervenute nella circostanza. Uno dei testimoni della famiglia Mottolini, che era la famiglia vittima di questi fatti. La settimana scorsa, all'udienza scorsa, di venerdì, abbiamo ascoltato gli altri componenti della famiglia Mottolini e andremo avanti ancora venerdì di questa settimana e probabilmente a discussione il giorno 15. Ha fatto un lavoro eccezionale l'accusa. Un applauso alla dottoressa Antonelli e al maresciallo speciali per la ricostruzione delle celle telefoniche e quindi l'utilizzo dei telefonini durante i fatti per cui è causa. Speriamo francamente che si possa arrivare a una condanna, più che altro in quanto i miei clienti temono per la loro incolumità. Bocche cucite al momento da parte della difesa dell'imputato.